Allora, ma lei mi è impastata, ma poni il coraggio, sono lì, quando giro quell'onda, con tutti i pauriti, vedi, allora stai, vedi, lascia stare la piappola, hai rivegato la piappola, lascia stare, tu lo fatti, va lì, accende, basta, ma non mi rompere i oglioni, fumo, e poi la seconda è un'altra cosa, lascia la geografica, è un canale ottimo, è ovvio, perché si impara, si impara di riattendersi, come non mi intendo, però, un personaggio non mi incontra particolarmente simpario, quello è il favo, le osse per gli olose, va bene, quello è il fava, l'altra volta fa la ricerca dei serpenti e dei velenosi, perché bisogna cercare dei serpenti più volerosi di tutti, allora, lui che fa con questi serpenti, va, e ti rompe i coglioni nella tutana, va bene, e diciamo, ok, questo serpenti è aggressivo, ma se tu mi rompe i coglioni, io sono aggressivo con te, di per forza, e poi si vede questo strato, questo strato, questo strato, questo uomo, che prende il piappone di un lato, è aggressivo, è il piappone di un cazzo, il piappone si givincona, che faccia stare, piappone! Dillo, ti prego, dillo, no, scusa me, è quello che battano i porti, ehi, è il piappone, è il piappone! No, io non ho preso il posto, c'era un altro, ha preso il posto, ah, bravo, è, ha preso il picoglio, è avventivo il picoglio, non è lì, no! Il goio, c'era un, ma l'ho tolto, mi hanno preso il posto, Dillo, tu paghi anche l'abbonamento di Sky, io lo faccio l'infante, sappi che io sono il capivo infante, io sono l'antiumano, la prossima volta che metti le manichie voi, no, proprio se ne la metti dentro la piappone, allora, vado, Spannock, al prossimo pezzo, che era? Sollecitazioni a, sollecitazioni agli Spannock, però calma, perché dopo ti li ho preso il piccolino, hai fatto il piccolo, perché mi sono scelto due anni di canto per sapere... due anni di Volvo, sì, 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 silencio il concertazione, e a a Musica Basterebbe un grande dottore Per salvare un mondo malato Tutti quanti in piazza a protestare La sposa è stata ricoverata ed è grave L'infanticidio di massa non è previsto dalla legge Se parlate tutti insieme non capisco perché dite Se parlate tutti insieme non capisco perché dite Se parlate tutti insieme non capisco perché dite Il giorno è sempre più verde L'hamburger è il vero omicidio Windows Millennium è il sistema operativo L'infanticidio di massa non è previsto dalla legge Se parlate tutti insieme non capisco perché dite Se parlate tutti insieme non capisco perché dite Se parlate tutti insieme non capisco perché dite Vai Padgrazio Se parlate tutti insieme non capisco perché dite Vai Padgrazio Vai Padgrazio Vai Padgrazio Ma l'arte! Tutti in set! Vai albertas! Tutti in set! Dite! Vai Lucio! Come, 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 a! Come, come, l'iere! Dove va? Grazie. Come è possibile?